Ieri ho fatto la mia spesa online e mi sta arrivando, oggi voglio chiedere al fattorino che me la porta cosa si vuole mangiare Ragazzi che bella una fattorina, senti ti voglio fare il pranzo, che ti puoi mangiare? Eh, ti ho prodotto il salmone, fammi qualcosa con il salmone Ti faccio un hamburger di pesce spettacolare, dai Iniziamo a togliere la pelle al salmone, poi ce lo andiamo a tartarizzare Sale e pepe e scorza di lime Formiamo gli hamburgerini Avocado Qualche pomodorino E un po' di cipolla fresca Qua abbiamo dello yogurt greco semplice Mondiamo solo con sale, pepe e un goccio d'olio Oh, hai fattorini invece che le mangi, fategli i panini C'è dar Eh, guarda che spettacolo Avocado, hamburger, salsa yogurt Tiè, sicuro sta ragazza torna al lavoro più contenta? A massa quanto è buono Fammi sapere nei commenti cosa